Inizia uno scontro tra i mercati e Jerome Powell. Salve a tutti, oggi parliamo di questo perché a poche ore dall'annuncio della Federal Reserve di non tagliare i tassi, il mercato sta reagendo molto male agli ultimi dati macro che hanno fondamentalmente confermato il rallentamento dell'economia americano che chiaramente andrebbe accompagnato da un sostegno dal punto di vista delle banche centrali. Invece ieri Jerome Powell ha continuato a non fare nulla, leggiamo l'elemento più importante, a mio avviso, dello statement, del comunicato, del braccio operativo della Federal Reserve, il FOMC. La parte interessante è che questo aggettivo Inflation has eased over the past year, but remains somewhat elevated. Allora l'aggiunta è stato questo somewhat piuttosto alquanto nel precedente comunicato avevamo soltanto elevata e quindi c'è stato un piccolo miglioramento nel giudicare l'inflazione da elevata a piuttosto elevata, quindi un gradino in meno, ma la parola chiave magica che gli investitori avrebbero voluto che non ci fosse stata sul comunicato è questa elevata, anche perché l'inflazione poi così elevata non è ed è più bassa rispetto a quello che è il costo del denaro della Federal Reserve che è rimasto al 5,50% sopra appunto il livello dell'inflazione. È chiaro che nessuno vuole ripetere gli errori di Volker degli anni 70, è chiaro anche che però si gioca su un confine, su un sentiero sempre più stretto e il comunicato oggi fu uscito per quanto riguarda l'indice manufatturiero ISM, è il manufacturing PMI che è sceso a 46,6 punti rispetto ai 48,5 del mese precedente e soprattutto sotto le aspettative del mercato, riflettendo la più ampia contrazione da questo punto di vista da novembre 2023, aggiunge sostanzialmente ulteriore pepe a questa situazione di tensione sui mercati finanziari che è mostrata, fotografata dall'andamento dei future sui tassi, perché nella seduta di oggi fondamentalmente è come se il mercato stesse incamerando in automatico nel suo scontare il futuro, nel suo preoccuparsi del futuro o nel suo eventualmente andare a essere più ottimista, comunque oggi diciamo che è più preoccupato perché ha alzato i tagli dei tassi per la Federal Reserve da qui a fino a 2025 da 7, ieri eravamo a 175 punti base che equivalgono a 7 tagli da 25 punti base, da 7 a 8, siamo praticamente arrivati quasi a 200. Ricordiamo che quando il mercato si aspetta un numero congro di tagli sostanzialmente è più vicino a scontare uno scenario di soft lending, cioè le banche centrali tagliano ma non troppo, quel tanto che è sufficiente per ridare una spintarella all'economia che è in difficoltà, ma se il mercato comincia a scontare che le banche centrali devono tagliare troppo, a quel punto si passa dal fatto che si inizia a apprezzare con più probabilità, non al 100%, ma è sempre un discorso di probabilità, non al 100% e dicevo lo scenario di hard lending, quindi la partita tra soft lending e hard lending nella seduta di oggi che segue la decisione di Powell di mantenere lo status quo per l'ottavo meeting consecutivo lasciando i tassi al 5,5%, praticamente da un anno a questa parte, la seduta di oggi è una seduta in cui il mercato sta apprezzando un pezzo in più di hard lending rispetto alla seduta di ieri perché i nuovi dati macro abbinati, ripeto, alla scelta di Powell che continua a indicare l'inflazione elevata piuttosto che, è vero che ha aggiunto l'aggettivo somewhat, appunto alquanto piuttosto che va un po' a moderare la situazione, ma continua in questo momento a concentrarsi prevalentemente sull'inflazione che è uno dei due obiettivi del mandato della Federal Reserve e meno sulla disoccupazione che invece sta aumentando e sono arrivati oggi anche le richieste dei sussidi settimanali di disoccupazione in rialzo del 6% rispetto alla settimana precedente quindi anche da questo punto di vista. Non escludo che nei prossimi giorni, quando avremo l'aggiornamento sull'indicatore dell'economista SEM, la SEM Rule Indicator Recession, questo possa eventualmente avvicinarsi a cor di più alla soglia di 0,5% che in passato ha alimentato, ha predetto la recessione. È vero che a questo giro della storia, abbiamo parlato più spesso, tutto è un po' più protetto o vattato proprio dal fatto che la parte lunga della curva è manutenuta, manipolata dalla Federal Reserve in prima battuta e poi in seguito dalle scelte del Tesoro di spingere sulle emissioni a breve, ma è anche vero che qui si gioca con il fuoco. Ci sono alcuni indicatori che appunto stanno un po' iniziando a peggiorare, oltre a questo qui sui tassi che è molto importante, l'indicatore che stavo appunto monitorando, vediamo se riesco a trovarlo rapidamente, altrimenti ne parliamo un'altra volta, comunque sostanzialmente lo spread high yield bond per quanto riguarda, eccolo questo qui, questo indicatore vedete che è lo spread tra i bond, i corporate bond ad alto rischio, quelli che hanno un rating inferiore alla tripla B che vengono anche chiamati junk bond, bond spazzatura, comunque quelli più rischiosi che appartengono non alla categoria investment grade che è quella appunto considerata meno rischiosa dagli analisti perché emettono appunto dei rating, delle valutazioni sul rischio degli emitenti di questi bond, ecco la differenza tra bond rischiosi e bond non rischiosi che quando è bassa indica appetito al rischio del mercato ed era al 3%, adesso siamo al 3,25%, non siamo ancora in fase diciamo di deterioramento importante, lo ricordo che quando questo spread tende a salire chiaramente è bearish come situazione, infatti i bear market convivono con questo spread moderatamente superiore al 4,5-5% mentre i bull market convivono con uno spread in discesa e poi tendenzialmente trovano un minimo sotto il 3% nelle fasi più ottimistiche, quando c'è la recessione vedete che questo spread poi si impenna in modo importante, adesso non siamo assolutamente su livelli drammatici, anzi siamo ancora in pieno appetito al rischio però c'è un peggioramento, vedete ingrandiamo, dal 23 luglio eravamo al 3% e adesso siamo al 3,25% quindi si comincia a pagare un po' di più, non tantissimo lo ripeto ma un po' di più, i bond high yield, quelli appunto più rischiosi, quindi il mercato comincia a preoccuparsi un po', non tanto, non del tutto ma comincia soprattutto, è cominciato questo scontro tra i mercati e la Federal Reserve perché appunto i mercati uno dei modi che hanno per trasmettere a Powell e le banche centrali che deve agire è quello di andare poi a far scendere le classi di rischio, a far aumentare la volatilità, a peggiorare ulteriormente in questo modo le financial conditions e ad abbassare i tassi, oggi è una giornata in cui il rendimento a 10 anni è sceso sotto il 4% e anche qui quando i tassi scendono è una buona notizia dal punto di vista delle financial conditions ma quando scendono troppo e violentemente vuol dire che il mercato ha un po' più paura della recessione perché le obbligazioni hanno questo compito di essere una sorta di sentinella del ciclo macroeconomico, quindi quando fiutano un peggioramento del quadro macroeconomico in poche sedute, comunque in poche settimane vanno a scontare più tagli, meno inflazione nel futuro eccetera eccetera e quindi questi tassi anche nella parte lunga vanno a scendere il decennale, vedete a questo punto possiamo dire che ha perso quasi definitivamente in questo momento la trendline che durava da 4 anni, la trendline dinamica al ribasso e quindi da questo punto di vista possiamo dire che i mercati potrebbero continuare a frontranare come dire a mettersi contro la decisione di Powell di essere andato in stallo ieri e di essere stato sì possibilista, ha detto che il taglio dei tassi a settembre è on the table e sul tavolo ma non è stato neanche così convincenti appunto da questo punto di vista e quindi i mercati di fronte a dati macro negativi iniziano a dubitare che davvero Powell abbia sbagliato a non tagliare i tassi già nella riunione di ieri, a questo punto c'è il simposio di Jackson Hole tra il 22 e il 24 agosto quindi fa tre settimane che sarà un simposio importante in cui eventualmente Powell potrà mettere una toppa eventualmente rispetto a quello che non ha fatto e anche eventuali tensioni sui mercati finanziari oppure potrebbero esserci se i mercati finanziari dovessero continuare a preoccuparsi, a frontranare il mancato taglio dei tassi da parte della Federal Reserve sostanzialmente potrebbero anche arrivare a delle dichiarazioni nei prossimi giorni dei banchieri centrali o della stessa Yellen per eventualmente cercare di calmare un po' le acque che non sono super agitate ma sono un po' mosse, sono un po' mosse perché oggi è una giornata da riscoffa allo stato puro, è una giornata in cui anche le small cap che sostanzialmente non avevano partecipato alla correzione dei titoli tecnologici e quindi facendo immaginare che fosse semplicemente una rotazione perché lo avevamo detto quando gli investitori vendono le big tech ma comprano le small cap non hanno paura di una recessione di un hard landing invece oggi chiaramente andrà valutato con più attenzione però l'indice Russell sta perdendo quasi il 3% quindi una giornata di sell off che è una giornata secca, vedremo se proseguirà, sell off confermato dalle acquisti sul dollaro che ieri aveva perso terreno, oggi nonostante lo scenario di tassi più bassi per quanto riguarda il mercato dei futures il dollaro si sta apprezzando e quindi oggi è una giornata in cui si comprano bond e si vendono le classi di investimento rischioso. Quanto di questo movimento si è legato appunto ai dati macro di oggi più deboli del previsto o al fatto che appunto c'è anche l'idea di cercare di fare pressione a questo punto alle banche centrali, lo ricordiamo, i mercati finanziari, l'ho detto anche in un precedente video in vari articoli sui 24 ore che lascio in descrizione, sono sempre dei bambini viziati, dal 2008 in poi hanno capito che c'è la mamma Federal Reserve e quindi a questo punto facendo pressione aumentando la volatilità tra l'altro nel mese di agosto che è un mese dove molti operatori non sono operativi e quindi c'è meno liquidità, meno volumi quindi è eventualmente più facile innescare dei movimenti più corposi anche su classi di investimento importanti, comunque sostanzialmente dovremo capire se questo movimento è un movimento di pressing a Powell, alle banche centrali oppure qualcosa di diverso, però intanto oggi derubrichiamo che nella seduta di oggi è come se il mercato avesse scontato un taglio in più per quanto riguarda i prossimi mesi da 7 tagli a 8 tagli e quando si supera una certa soglia di tagli attesi si inizia a passare da soft landing ad hard landing. È una questione di probabilità, al momento il soft landing è ancora dato più probabile altrimenti qui avremmo più più tagli più di 200 punti base ma se dovessimo superare appunto i 200 punti 250 punti basse a quel punto vorrebbe dire che il mercato si sta posizionando in modo più convinto sull'hard landing sullo scenario di hard landing che a questo punto per usare la stessa terminologia di Powell è on the table anch'esso ha meno probabilità al momento di verificarsi ma di fronte a un deterioramento dell'indice leading indicator quale è il PMI manufatturiero vuol dire che i direttori di acquisto non vedono così luce nel futuro e quindi fanno meno ordinativi e dal loro punto di vista, dal loro osservatorio di chi appunto fa gli ordini prima prevedendo come andrà il ciclo economico quindi tra virgolette sporcandosi le mani nell'economia reale chiaramente lo scenario è di rallentamento e quindi avere questi tassi al 5,5 per l'ottavo meeting consecutivo e soprattutto così lontani dai livelli attuali di inflazione forse è stato un errore almeno questo lo pensa il mercato in questo momento che sta andando a vivere una seduta da hard landing in cui scendono anche le materie prime vedete rame meno 2,48, dottor Copper che già diciamo si stava muovendo a ribasso ma aveva avuto una reazione e oggi conferma questo movimento scende anche il petrolio nonostante il rischio geopolitico che si è aumentato legato all'attentato al leader di Hamas eccetera eccetera quindi scendono le materie prime vengono comprate le obbligazioni e vengono vendute le azioni quindi sostanzialmente se dovessimo catalogare la giornata di oggi è una giornata dovessimo sostanzialmente tirare in ballo il nostro pring che a tal proposito sono curioso di vedere quello che avrà aggiornato in questo nuovo mese eviterò aggiornati comunque se dovessimo tirare in ballo è una seduta quella di oggi da fase 1 che fa da contraltare al più 3,5 visto ieri a caldo dopo chiaramente la decisione di Powell dopo la riunione di Powell c'era ancora ottimismo c'era forse nel mercato la convinzione che settembre potesse essere diciamo comunque un buon compromesso per iniziare a tagliare questi tagli e tassi ma evidentemente oggi il mercato un nuovo mese palla al 100 la pensa diversamente anche perché questi dati macro appunto confermano e poi ripeto il mercato dei futures e sui tassi si è portato su un taglio in più e quindi è una probabilità a questo punto maggiore rispetto a quanto era ieri di hard landing la partita tra soft landing e hard landing è ancora in corso alcuni indicatori di allarme stanno un po' peggiorando non sono ancora lì a segnalare l'allarme ma il mercato ha anche una capacità di mettersi conto di fare pressione di frontrannare la banca centrale e quindi vedremo se nelle prossime sedute di agosto solitamente più volatile che altri mesi potrebbero potrebbe esserci questo scontro effettivo continuare questo scontro che di fatti è partito sembra partito oggi vediamo appunto se proseguirà fatemi sapere cosa ne pensate alla prossima ok 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 ok